Quest'anno abbiamo un tester d'eccezione, visto che Jacopo a me mi hanno detto non puoi provare il percorso, ti ho mandato te, quindi per favore me lo spieghi, com'è questo percorso, duro? Eh sì, molto duro, ci sono molte buche, con molti sali scendi e i ponti sono veramente pendenti, bello, bello. Ti ho visto fare un volo lì in fondo sugli ostacoli e volevi provare a saltarli in bici? Eh sì, si prova sempre. Ma dimmi, taglimi una curiosità, com'è qua a girare, visto che oggi fanno girare, hanno girato anche i bambini prima, com'è a girare e poi ti trovi Van Aert, ti trovi Lacan? È molto emozionante. Quindi insomma è una trasferta che a fine stagione tu consigli a tutti quelli che fanno ciclismo e non solo? Sì sì, molto bello. Perché tifi tu? Eh, Van Der Poel. Bene, buona continuazione. Grazie.